Musica Avevano messo a segno 53 furti nel territorio comunale di Foiano della Chiana, adesso i carabinieri assieme alla polizia municipale hanno denunciato i due topi d'appartamento. Si tratta di due albanesi di 22 e 37 anni, entrambi pluri pregiudicati e ritenuti gli autori dei numerosi furti avvenuti nel territorio comunale di Foiano. Nel mese di marzo, infatti, la zona periferica dell'abitato era stata interessata da una lunga scia di furti e tentati furti messi a segno generalmente durante la notte. Per interrompere il fenomeno erano state avviate indagini mirate sia attraverso l'ausilio delle telecamere comunali che attraverso servizi di perlustrazione. Le telecamere comunali hanno permesso di appurare che due malviventi si muovevano a piedi proprio per erudere con più facilità i controlli. Grazie ad un'attente e scrupolosa attività informativa, i militari hanno inoltre scoperto che i due albanesi avevano costituito un covo nell'immediata periferia del centro all'interno di un edificio in via di costruzione dove nascondevano arnesi da scasso e gli abiti che utilizzavano per perpetrare furti. A seguito delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati rinvenuti alcuni oggetti provento dei furti e sono stati sequestrati tutti gli arnesi dei quali malviventi si sono asserviti. Sono in atto ulteriori ricerche adesso per cercare di recuperare la refurtiva mancante probabilmente introdotta nel mercato nero dei preziosi.